Livelli di intimità variabili, editrice zona Genova 2020. Trattasi di nobile passatempo spirituale, il vagare per sentieri incogniti in cerca di funghi mangerecci, non solo i neri neri, detti porcini, ma i gialli gialli, pseudo lomallosi sotto, detti galletti e gallinacci, e le russole species, dette combette e colombine, e quelli bianchi bianchi di campo, detti prataioli e champignon, e i boletus species, ma tipo spinarelli gialli gialli tubulosi sotto, che a volte si moltiplicano in maniera sfacciata e sospetta, straputando radure trapini i pinarelli, che, trassalito al monte, al signore anziano chiedo se sono buoni, e lui risponde sorridendo, braccia slargando, se non ce ne sono altri.